Musica Le immagini dei terreni allagati, i volti di tanta gente comune, le testimonianze rotte dal pianto di un getto d'acqua che ha passato portandosi via ogni cosa. Abbiamo in mente le immagini di Genova, questi sono i giorni dell'esondazione del Secchia che colpì il 19 e 20 gennaio scorso i comuni di Bastiglia e Bonporto, attimi raccontati in una pellicola documentario dal titolo Forza, racconti d'anime in alluvione, realizzata con la partnership di TRC e presentata questa mattina al Victoria Cinema dai protagonisti e dal regista Paolo Galassi. Se ne è parlato poco di questa alluvione, ha avuto un'attenzione molto molto limitata, l'idea era quella di lasciare alla gente di questi luoghi un frammento di memoria, secondo me anche importante dal punto di vista storico, sociale e umano nel vero senso della parola. Riscoprire una realtà del genere è stato umanamente molto forte e io sono orgoglioso, mi rende orgoglioso questo progetto. Quello che abbiamo voluto fare è stato un contributo che è nato fondamentalmente dal cuore, un lavoro di team incredibile, un lavoro al quale teniamo molto proprio perché vogliamo sposare la causa dell'importanza di parlare di quello che è, di quello che si vive veramente sotto forma di un docufilm, perché non si tratta soltanto di documentari, ma si tratta fondamentalmente della vita delle persone che viene stravolta, viene travolta in questo caso, e quindi abbiamo scelto il formato del docufilm perché ci sembrava il modo più efficace per arrivare al cuore. Il docufilm è stato realizzato come opera 2 del progetto Terreforti. Il ricavato della vendita verrà devoluto dal gruppo Porte Vinciane in favore della ripresa delle attività commerciali dei comuni allagati.